Ora si registrerà la conferenza. Perfetto, buon pomeriggio a tutti, siamo alla terza sessione di questi incontri. Come di consueto iniziamo con un breve indirizzo di saluto dell'assessore Cucci, assessore delle politiche europee e attività produttive del Comune di Pordenone. Prego, assessore. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Ovviamente ringrazio i presenti e i partecipanti collegati via web a questo terzo appuntamento di PNI Smart Desk. Anche il tema di oggi è uno tra quelli che presentiamo in programma tra i più significativi, forse quello che ci sta più a cuore, poiché non c'è futuro nell'innovazione se non è accompagnato alla formazione, alla crescita professionale dei giovani e al loro coinvolgimento nei processi di trasformazione digitale. Oggi parleremo di Industria 4.0, che ormai è una realtà consolidata nel settore delle imprese, ma non solo. E sicuramente troverà ancora più spinta dagli interventi che con il recovery nell'immediato futuro verranno finanziati. Ma proprio in tema di formazione 4.0 sono portata a chiamare il recovery, ritengo opportuno chiamare il recovery, forse con il suo nome originale, Next Generation City, proprio perché sarà la prossima generazione ad interpretare l'innovazione e quindi quella nuova visione del fare impresa, una Next Generation che è già qui, il futuro possiamo dire è ora, non dobbiamo aspettare che arrivi, ma però dobbiamo assolutamente formare, rendere attiva i giovani, la nuova generazione, poiché le tecnologie, ma questo lo stanno dicendo, ce lo sentiamo dire, permettono un cambio di paradigma anche nel luogo di lavoro. Ovviamente le nuove tecnologie, questo lo voglio sottolineare, proprio perché è stato appena detto, la platea è maggiormente a presenza femminile, permettono una crescita professionale anche per le donne. e lavoratrici che vengono innalzate nel loro lavoro quotidiano a professionalità più studianti e questo proprio grazie a tecnologie evolute. Brevemente quindi ho voluto ricordare come questa trasformazione epocale, il ruolo della tecnologia in modo particolare è nullo, non ha senso se non è accompagnato alla formazione e questo assolutamente deve diventare un momento di crescita per l'intero mondo produttivo. Il comune di Pordenone è in particolare l'assessorato alle attività produttive, per la parte di sua competenza ci ha sempre creduto e quindi ha portato avanti delle politiche con e per l'impresa, per i lavoratori, per le lavoratrici e io credo che questi webinar, queste sessioni di incontro lo stiano a dimostrare. Io ringrazio e auguro buon lavoro a tutti. Grazie. Bene, grazie Assessore. Bene, io per questa serata sono il moderatore, quindi volevo proprio due secondi, mi presento, mi chiamo Adriano Savoini, sono responsabile scientifico della TB Associati, di cui avete già sentito parlare con il mio socio Stefano Puissa, che ha fatto, che era presente nelle prime due sessioni. Bene, a questo punto introduco i due relatori della serata, l'ing. Marco Imbotto di LEF, Lean Experience Factory, e il dottor Andrea Zanni, che è il direttore generale del Consorzio Universitario di Pordenone. Vi pregherei magari di fare proprio un minuto di vostra brevissima introduzione, sia personale che dell'ente che rappresentate, e dopo inizieremo con un paio di domande in maniera da avviare il dibattito. Per quanto riguarda eventuali domande da parte dei presenti, le potete fare come sempre nella chat, poi sarà nostra cura proporle ai relatori e da avviare un'ulteriore chiacchierata con voi. Prego, Marco Imbotto, se vuole raccontarci un po' di sé e della LEF. Grazie. Con piacere. Sono Marco, non sono ingegnere, sono lavorato in economia, l'ho deciso, ahimè, o per fortuna, so che ci sono molti ingegneri e ci piace prenderci in giro vicenda. Sono lavorato in economia, ho fatto un percorso in Italia e all'estero, la cosa che più mi piace raccontare è che è l'esperienza più importante dentro del Polo Tecnologico di Pordenone, ora altro, Alto Adriatico, che abbiamo sviluppato, che so essere stato coinvolto anche in questo percorso nella puntata precedente. Da circa cinque mesi sono diventato il nuovo direttore generale di LEF, LEF è l'acronimo di Lean Experience Factory ed è una società con sede operativa a San Vito al Tagliamento che è particolare perché è una società costituita al 50% da Confindustria e Alto Adriatico e una serie di altri soggetti e soci territoriali e per l'altro 50% da McKinsey & Company da più grande o tra le più grandi società di consulenza strategiche globali e che appunto ha partecipato questa LEF, questa Lean Experience Factory ormai da una decina d'anni, da 2011 precisamente. Bene, bene. Se vuole possiamo iniziare a parlare un po' di LEF oppure direi che la sua presentazione. Come vuoi Andrea? 30 secondi per presentarmi. Andrea Zanni, io sono ingegnere informatico e sono direttore del Consorzio Universitario di Pordenone che è l'ente che a Pordenone gettisce e coordina il polo universitario qui in via Prasecco. È un polo universitario che attualmente conta più di 1500 iscritti. sono insediate qui tre università l'Università di Udino, l'Università di Trieste e l'Accademia Easy Roma Design di Roma che eroga però dei corsi a Pordenone sul design di prodotto e qui presente anche i percorsi DS istituti tecnici superiori questi sono corsi para-universitari ma post-diploma. Fino al mese scorso mi occupavo anche di DS adesso sono tornato a occuparmi a tempo pieno di polo universitario. All'interno del polo universitario sono presenti anche sei laboratori di ricerca universitaria che creano quel link di ricerca, di innovazione e di sviluppo che poi si proietta direttamente verso il polo tecnologico dove trova il suo naturale sviluppo spin-off o aziende o innovazione e si collega tutto tondo con la LEF per completare un ciclo di innovazione che direi sul nostro territorio ha veramente tutte le carte in regola su tutti i vari step. Direi che come presentazione mi fermerei qui e poi all'interno delle varie domande avrò modo di approfondire. Molto bene, grazie dottor Zanni. Partiamo con una prima domanda a Olivotto sulla LEF e questa mi pare sia un'azienda diciamo modello per diciamo determinate tutta una serie di determinate attività. Cos'è sostanzialmente la LEF? Che cosa, quale vuole essere il suo ruolo nel diciamo nel panorama sia formativo sia industriale attuale? Allora, faccio una premessa su che cos'è un'azienda modello. Voi avete presente la barzelletta quella che dice che durante il giorno si scava il buco e la sera si chiude il buco. LEF è sostanzialmente questo. È un'azienda con macchine, tecnologie, processi, un prodotto che è il compressore che viene realizzato e alla fine viene smontato. Perché non lo vendiamo? Non perché siamo impazziti ma perché il nostro obiettivo è quello di andare a replicare processi fargli vedere ai partecipanti ai nostri programmi di formazione nelle nostre sessioni di formazione e far vivere a queste persone i processi di trasformazione di questi processi stessi. Perciò far vivere le persone come avviene una trasformazione di un processo di impresa perciò di un processo di logistica piuttosto che di un processo di produzione di assemblaggio piuttosto che un processo di acquisto della materia prima o dei semi componenti piuttosto che della logistica faglielo vedere con mano faglielo fare direttamente in modo disorganizzato come avviene in una buona parte delle imprese aiutarli a farlo vivere a farlo trasformare questo processo in modo organizzato e quindi in una volta trasformato in modo reso più efficiente più performante ecco allora che c'è raggiunta delle tecnologie 4.0 avviene la trasformazione digitale e quindi c'è un altro esempio di trasformazione ancora che viene fatto vivere toccare con mano e viene fatto fare direttamente i partecipanti dei nostri corsi questa è un'azienda modello sostanzialmente un'azienda con processi reali con persone reali che producono reali partecipano interpretano dei ruoli dove però l'obiettivo non è vendere l'output diretto di questo processo produttivo ma andare a replicare a far vivere quelle che sono tutte le dinamiche legate alle persone e quindi alla difficoltà magari di interazione che ci possono essere piuttosto che alla difficoltà di adottare un certo tipo di cultura piuttosto che far capire far percepire quali sono le opportunità legate alla digitalizzazione piuttosto che far capire che se io digitalizzo senza essere prima diventato snello ho digitalizzato uno spreco e quindi non va bene non posso laurearmi senza essere prima laureato ok? questa è un'azienda un'azienda modello non è l'unica di azienda modello nasce anzi faccio un passo indietro l'EF oggi è un'azienda modello ma lo sta diventando quest'anno in questo in questo mese in queste settimane che ci stanno separando dall'inaugurazione dell'espansione della nuova sede che sarà prevista ai primi di luglio e che sta trasformando profondamente quella che è l'EF perché l'EF nasce nel 2011 come dicevo prima come fabbrica modello nasce come fabbrica modello perché si pensava e si si era deciso di investire in un aspetto specifico della catena del valore di un'azienda che è la parte di produzione che è fondamentale è estremamente importante ma è una piccola parte dopodiché si è deciso di estendere anche ad altre fasi all'ufficio alla logistica al controllo di qualità senza però andare a coprire l'intera catena del valore di un'azienda oggi grazie a questa espansione importantissima che stiamo facendo stiamo andando a triplicare gli spazi triplicare le linee perciò è molto più potente e unica nel suo genere nel mondo diventa per davvero un'azienda andando a coprire ogni singola fase della catena del valore aziendale di un'organizzazione che sia manifatturiera piuttosto che di servizio ottimo una domanda così una curiosità forse più più personale come ha impattato il momento pandemico nella nella diciamo struttura evoluzione nelle attività quotidiane di di lef è stato incorporato un certo know-how preso da questa situazione molto particolare diciamo all'interno dell'azienda allora l'impatto è stato all'inizio di sconforto perché noi facciamo formazione esperienziale questo è il nostro business questo è quello che ci caratterizza da altre business school da altri soggetti che erogano formazione su questi temi il nostro asset portante il nostro valore aggiunto la fabbrica siamo spacciati dopodiché si si è grattati un po' un po' la pera e si è capito che le aziende continuavano a avere esattamente le stesse esigenze anzi di più perché dovendo comunque produrre in situazione di instabilità di grandissima flessibilità essere snelli ed essere più formati e più performanti è molto importante più importante ancora di prima di una condizione normale e quindi c'era una grandissima domanda da parte del mercato si è sostanzialmente deciso di investire ok su una serie di tecnologie hardware e software e di riuscire a spostare e a garantire l'esperienzialità anche a distanza questo cosa ha permesso ha permesso di superare le barriere fisiche perciò di far vivere l'esperienzialità non solamente a quelli che riuscivano a venire prima fisicamente in aereo o in macchina a San Vito ma di farla vivere a chiunque in modo molto più facile anche l'esperienzialità è garantita sì io quando sono arrivato non è possibile voglio provare perciò mi sono fatto un po' di corsi e bisogna dire che l'esperienzialità è assolutamente garantita il trasferimento l'apprendimento del know-how anche rimangono degli aspetti che secondo me a mio avviso sono importanti che sono la fisicità perciò l'esperienza non tanto legata al modulo formativo in sé ma quanto legata al confronto con le altre persone a tutto ciò che è il contorno che è il bello del lasciatemi dire della trasferta anche che è il bello di stare fuori e andare poi a cena magari con i colleghi o con persone che si sono conosciute durante la giornata questo però ci ha permesso a Lev di sostenersi in piedi e anzi crescere il volume di affari ha permesso di sperimentare delle formule che prima non si sarebbero mai pensate e che adesso che speriamo sempre di più non saranno più obbligatorie ma che comunque manterremo perché anzi proprio nell'espansione è stato fatto un investimento ancora maggiore proprio per riuscire a essere più performanti dal punto di vista della fruizione a distanza ci ha permesso di sperimentare formule blended parte in fisico parte da remoto perciò ci ha spinto ci ha spinto facendo fare delle cose l'ultima volta sul corso con le persone qua il docente in azienda ha detto ah non l'abbiamo mai fatto sarà un disastro il risultato invece dopo due giorni è che è andata benissimo e che anzi verrà fatto molte più volte così bisogna rispondere certo già che ci siamo c'è una domanda nella chat a proposito del bacino di utenza della LEF chi sono quelli che arrivano da voi hanno una provenienza particolare avete un bacino di utenza molto vasto tutto il mondo vengono da tutto il mondo vengono da dall'Asia vengono dagli Stati Uniti vengono dall'Europa vengono dal Middle East vengono vengono molto di più io dico gli stranieri che non gli italiani come sempre come sempre il bacino è molto più esteso è molto più numeroso molto più popolato di frequentatori esteri che non di frequentatori italiani lontani perciò il nord est sicuramente sì il resto poco purtroppo o meglio per il momento bisogna dire la verità che noi italiani soprattutto io dico abbiamo poca propensione abbiamo poca volontà poi adesso siamo stati un po' costretti a partecipare all'attività da remoto certo certo bene grazie adesso passerei al dottor Zanni per parlare un pochino della sua esperienza sulla formazione qui mi riferisco soprattutto al suo incarico precedente quindi all'ITS all'ITS Kennedy e la sua esperienza sul modello degli ITS e questo modello dell'ITS ha dei principi fondamentali e basato su determinate assunzioni particolari come qual è proprio il principio fondante di un ITS beh l'ITS sono dei corsi che devo dire sono stati misurati in lungo e in largo anzi hanno caratteristiche particolari quella che ogni corso che finisce tutti i corsi vengono sottoposti a un monitoraggio da parte di indire e quindi si misurano le performance dei percorsi formativi e questo devo dire è il primo elemento se volete di novità nel panorama della formazione quindi non è più una misura campione ma una misura puntuale perché faccio riferimento alle misurazioni perché le misurazioni degli ITS parlano di numeri veramente eccezionali di occupabilità soprattutto nel nostro settore qui a Pordenone ITS Kennedy ora ITS Alto Adriatico racconta numeri altissimi di occupabilità 91 95 97% di studenti che a un anno dal diploma trovano lavoro nel settore coerente al loro percorso di studi per cui stiamo parlando solo di ragazzi che vanno a fare esattamente quello che che hanno studiato per arrivare a questi numeri che sono veramente eccezionali bisogna introdurre elementi di novità dirompenti gli elementi dirompenti sono un'attenzione alle necessità all'evoluzione al panorama ai fabbisogni a quello che le aziende quello di cui le aziende hanno bisogno quelli che sono gli orizzonti futuri perché quando parliamo di corsi come i nostri in ambito ICT quindi che parlano di sviluppatori cloud sviluppatori in ambito IoT sviluppatori in ambito mobile data analytics user experience stiamo parlando di tecnologie di argomenti anche di filosofie di nuovi approcci che sono estremamente innovativi per cui questi numeri se vogliamo andarli a studiare bene hanno un'origine molto particolare la stretta collaborazione con le aziende sono percorsi di studio che tengono conto delle esigenze di un vasto diciamo insieme di soggetti tra cui sicuramente le aziende che hanno la possibilità di partecipare alla progettazione direttamente alla progettazione i contenuti didattici cosa che spesso viene riservata solo agli enti formativi invece negli ITS c'è una partecipazione diretta tramite un comitato tecnico scientifico che racchiude tantissime voci c'è l'attenzione alla situazione di categorie un'industria per esempio piuttosto che all'ambito formativo ci sono le scuole ci sono le università per cui gli ITS riescono a fare sintesi di una vasta esigenza e riescono a scaricare a terra tutte queste esigenze e concretizzarli in percorsi di studio estremamente veloci e flessibili un'altra parola chiave è sicuramente la velocità di adattamento parliamo di industria 4.0 parliamo di tecnologie che cambiano veramente dall'oggi al domani anche la formazione deve cambiare con la stessa identica velocità per cui gli ITS a differenza di tanti altri percorsi si rinnovano di anno in anno per esempio la fondazione ITS alto adriatico propone un set di corsi che cambia di anno in anno proprio perché si adattano a quelle che sono le esigenti e anche se il corso dovesse avere anche lo stesso nome sicuramente tutto il percorso didattico è stato rivisto aggiornato integrato con queste esigenti per cui la caratteristica assoluta degli ITS ecco perché hanno delle performance così elevate è questa velocità di adattamento non potrebbe essere altrimenti perché la parola dopo industria 4.0 siamo abituati ad un'altra parola che è il cambiamento la LEF ne è un esempio concreto la formazione deve essere veloce deve adattarsi alle nuove tecnologie e deve essere esperienziale perché se devo conoscere bene nuove tecnologie devo provarle concretamente purtroppo questa velocità ma si adatta a una teoria molto approfondita si adatta invece a una buona teoria affiancata a un'esperenzialità come diceva Marco quindi mettere in pratica subito quello che io riesco a imparare e questi sono dei cardini fondamentali un altro esempio è proprio la collaborazione stretta quindi gli ITS che utilizzano la LEF per alcuni moduli didattici quindi i ragazzi hanno la possibilità di inserirsi in un'azienda modello dove hanno possibilità di vedere con mano tutte le tecnologie messe in pratica e non solo come diceva Marco far vedere cosa succede con e senza con un certo tipo di approccio e senza un tipo di approccio e si vedono subito le differenze e queste ovviamente moltiplicano la velocità di apprendimento quando sviluppate diciamo qualche percorso nuovo o adattate i percorsi diciamo alle esigenze queste esigenze vi derivano sempre dalle aziende oppure c'è anche una diciamo partecipazione vostra in primissima persona per proporre voi stessi alle aziende alcuni percorsi diciamo innovativi o diversi rispetto ad esempio all'anno precedente sicuramente il ciclo di adattamento dei percorsi didattici è molto complesso lo fanno anche le università noi abbiamo la fortuna di avere dei percorsi di studio che da anni hanno attivato dei tavoli di consultazione con il territorio quindi mi viene in mente scienze tecnologie multimediali ha un appuntamento annuale con tutti gli esponenti dei settori produttivi piuttosto che degli enti pubblici o di tutti gli attori principali si raccolgono i suggerimenti e si mettono in pratica negli ETS questo percorso è ancora accelerato nel senso che i feedback sono molteplici ci sono i feedback degli studenti che alla fine del percorso di studio riportano le proprie impressioni ma non solo noi anche a questionari ufficiali di inviro materiali quindi ogni studente ha la possibilità di raccontare il suo percorso un feedback importantissimo arriva dai docenti che nei percorsi ITS sono quasi tutti professionisti un'altra caratteristica è per esempio nei percorsi della nostra fondazione il 95% dei docenti sono professionisti nel mondo del lavoro sempre perché noi operando nel settore ICT un settore estremamente innovativo evoluto e molto veloce abbiamo necessità di prendere i massimi esperti o comunque chi sa utilizzare molto bene le tecnologie per spiegarle velocemente ai ragazzi e questo è proprio una scelta naturale e questi professionisti che insegnano ci danno subito il feedback del livello di apprendimento dei ragazzi quindi quanto in profondità siamo riusciti ad arrivare il terzo feedback arriva dalle aziende perché dopo che hanno ospitato per più di cinque mesi in due momenti diversi della loro diciamo carriera formativa i ragazzi hanno fatto due momenti di stage e in tutto fanno cinque mesi noi alle aziende chiediamo un feedback una valutazione dell'attinenza della figura professionale non solo del singolo del singolo ragazzo quindi le capacità del singolo ragazzo ma anche della sua preparazione in generale per cui sono le aziende che ci dicono continuate così attenzione che queste tipi di tecnologie sono destinate a sparire perché stiamo già vedendo che stanno venendo avanti altre tecnologie e poi l'ultimo importante feedback è quello dei progettisti cioè di figure altamente specializzate che raccolgono questi feedback li sanno elaborare li sanno tradurre in un progetto formativo quindi sono figure specializzate nella progettazione dei corsi in genere ovviamente ricoprono un ruolo fondamentale come questo bene grazie vedo che è una situazione decisamente complessa per riuscire a organizzare queste questi corsi questi corsi formativi se non sbaglio anche il LEF ha dei percorsi formativi interni giusto? sì certo noi noi abbiamo diciamo quattro aree di attività tra i di business che sono la formazione la consulenza e il testbed la quarta non è business ma è per noi molto importante che è l'education l'education cos'è? è sostanzialmente il portare quanti più persone possibili dalle scuole secondarie o dalle scuole medie all'Andrea Zanni sia come ITS ossia che sia università ma comunque verso le materie STEM perciò fare tutto ciò che è legato all'alternanza scuola-lavoro terze quarte quinte superiori il prossimo anno c'è l'idea la volontà di lavorare alle scuole medie con i ragazzi con i genitori dei ragazzi c'è la volontà di lavorare con i professori vogliamo fare un summer camp per i bambini degli elementari vogliamo fare delle summer school legate alle ragazze per farle avvicinare verso le materie STEM e farvi capire che la fabbrica non è martello e scappello ed è un luogo brutto cattivo dove è pericoloso dove la gente si fa male inquinato non è assolutamente quella cosa lì è un luogo proiettato nel domani proiettato a crescere e non a mandare via le persone il problema più grande che oggi hanno le imprese che vengono qui che conosco che vado che vado a trovare è quello di trovare risorse risorse qualificate e anche se non sono qualificate di qualificarle ma di trovarle però questo è il grosso problema il limite allo sviluppo e alla fase al piano Next Generation EU io sono abbastanza convinto che non saranno i soldi non sarà il mercato ma sarà la capacità del sistema generale di avere a disposizione risorse umane risorse umane in grado di affrontare queste sfide questo è il dramma che stiamo vivendo ci sono le aziende informatiche di 20 persone che stanno cercando 10 risorse da assumere e non le trovano quelle di 150 ne stanno cercando 40 e non le trovi e se non le trovi cosa vuol dire? vuol dire che non riesca a essere competitivo vuol dire che perdi i clienti vuol dire che i clienti vanno verso realtà più grandi più strutturate che di solito non sono neanche locali o che magari queste realtà diventano appetibili per essere comprato appunto da gruppi più internazionali e quindi si va a impoverire quello anche che è il settore caratteristico imprenditoriale delle nostre zone o dell'Italia in generale caratterizzato da piccole e medie imprese perché poi piccole e medie imprese è bello è bello fino a un certo punto perché poi è difficile sostenere sì la decrescita e forse la decrescita se è più flessibile ma è difficile sostenere anche la crescita prima erano un'azienda che fa arredamento stanno avendo il 50% in più di ordini e non sanno come fare perché non sono strutturati erano impostati per lavorare in una certa tipologia di lavoro con una certa tipologia di output giornaliero settimanale lavorare il 50% in più non ci si riesce questo è il tema che oggi bisogna affrontare riuscire ad avere velocemente capacità di lavorare in modo qualificato in modo organico i corsi più belli che abbiamo lanciato ultimamente a mio avviso sono quelli legati alla figura dell'innovation manager e del servitization manager che sono poi ne abbiamo anche molti altri ovviamente sulla line sul digitale sulla logistica 4.0 su qualsiasi cosa che volete ma questi qua l'innovation manager e servitization manager sono figure che vanno a gestire la governance e quindi non entrano nella verticalità entrano nell'impostazione di sistemi di gestione proprio in quello che è l'orchestrare un'innovazione sistemica all'interno di organizzazioni che siano pubbliche private grandi meno grandi e basati su sono basate anche su delle norme che sono veramente molto affascinanti perché ti fanno capire come per essere efficaci ed efficienti per riuscire appunto a gestire in modo performante un'organizzazione non si parla solamente di lavorare a silos e di essere eccellenti in un'area ma bisogna essere eccellenti in tutte e riuscire a governare a transitare questa a trasferire a tutti quanti questo modo di pensare questo modo di agire questo è un po' quello che ci ha posto l'Unione Europea come obiezione al nostro recovery plan bellissimo tutto perfetto ma adesso chi le fa queste cose? Sì sì è notizia proprio di ieri sui giornali della ricerca di circa 500.000 persone da inserire nel mercato del lavoro per riuscire a sostenere tutte le attività del recovery plan che sono numeri che fanno veramente spavento perché queste persone ovviamente non saranno persone di basso livello ma dovranno essere diciamo ovviamente formate in maniera in maniera adeguata se facciamo un se buttiamo l'occhio verso il futuro diciamo l'azienda l'azienda del futuro è l'azienda 4.0 adesso in questo momento storico diciamo la vediamo ancora come un sogno oppure secondo lei potrà diventare realtà in tempi ragionevoli che permettano di mantenere la competitività rispetto agli altri player internazionali del mercato l'impresa 5.0 e domani moltissimi paesi stanno già lavorando sui piani nazionali chiamati industria 5.0 rivoluzione industriale 5.0 l'Inghilterra gli Stati Uniti la Germania perciò e accadrà tra qualche anno tra un poco più di un paio d'anni 4 5 6 anni questa famosa rivoluzione basata sul Deep Tech però appunto bisogna essere proiettati per affrontare questo percorso a fianco a me c'è Lumberto Visconti vi presento è qua con noi da una settimana e sarà una di quelle persone io sono giovane però insomma ho qualche anno in più di lui però sono già entrato nel mondo dell'industria da una quindicina d'anni lasciatemi dire non sono vecchio non sono di sicuro un attivo digitale e faccio parte di ormai questa quarta rivoluzione industriale mentre Lumberto è proiettato ad affrontare la quinta perché adesso vi racconto il percorso che ha fatto quello che sta facendo e capirete con quali basi si presenta appunto a questo appuntamento dei due anni tre anni cinque anni ok che è questa quinta rivoluzione industriale poi Umberto grazie buongiorno a tutti buonasera a tutti io appunto sono Umberto Risconti sono un ingegnere rospaziale di formazione ho lavorato qualche anno nel settore R&D poi ho preso una scelta accademica di tornare a studiare fare un MBA un Master in Business Administration presso la Stavocconi la scuola la business school associata all'Università Bocconi all'interno della quale è previsto anche un percorso di start e io ho scelto di intraprendere qua la lab e adesso comunque a Marco particolarmente incentrato sullo sviluppo di Testbed Marco l'ha già menzionato precedentemente Testbed è una piattaforma dove start up piccole e medie imprese possono validare e provare quelle che sono delle loro soluzioni innovative ovviamente questo verrebbe fatto all'interno della LEF perché ci sono da un punto di vista ci sono hardware software c'è un po' tutta quella che è la base solida per poter validare la propria innovazione la propria soluzione soprattutto se questa è una soluzione che può essere applicata all'industria 4.0 o a qualche tipo di relazione con il DTEC allo stesso tempo c'è anche tutta la parte di formazione e consulenza del know-how presente già in LEF quindi questi due ambiti unici insieme possono far capire quanto le potenzialità all'interno della LEF comunque all'interno di questo nuovo sistema siano ulteriormente sviluppabili e implementabili nel futuro prossimo quindi come diceva Marco qua siamo solo è solo una partenza possiamo andare molto avanti possiamo sfruttare tutte quelle che sono le risorse presenti sul territorio e che comunque non vengono sviluppate al massimo proprio perché manca un certo tipo di relazioni e un certo tipo di know-how che viene messo a disposizione cercare quindi di fare rete cercare quindi di avere uno sviluppo complessivo di queste attività è solo un outcome positivo per tutti perfetto grazie veramente un percorso estremamente interessante soprattutto un ambiente estremamente interessante per un per un giovane e voglio rivolgere una domanda a Zanni sostanzialmente quali sono le aspettative invece dei giovani secondo la sua la sua esperienza non soltanto diciamo economiche ma anche come attitudine lavorativa si vede uno shift verso le diciamo le attività stem oppure c'è ancora un percorso da fare concidono con quello che generalmente l'industria si attende o vi attendete voi come centri di centri di formazione purtroppo no purtroppo devo dire che il dato che ci preoccupa di più e che ha accennato prima Marco è proprio l'assenza gravissima di ragazzi che vogliono intraprendere percorsi di formazione in ambito stem i percorsi ITS in particolare che sono estremamente performanti vi assicuro che ci sono centinaia noi collaboriamo con un parco di circa 350 aziende in tutto nord-est e queste 350 aziende sono ferme perché hanno bisogno di personale non riescono a crescere non riescono ad affrontare nuovi progetti perché manca drasticamente personale anche perché generalmente tutti noi diciamo l'industria 4.0 brutta cattiva i robot sostituiranno le persone e quindi ci troveremo con un sacco di disoccupazione sì è vero che la disoccupazione giovanile ormai si attesta intorno al 30% ma dati confindustriali c'è un 33% di aziende che cerca invece e quindi ci sono molte più aziende che cercano rispetto agli studenti o ai ragazzi che sono senza lavoro purtroppo è vero che i robot sostituiranno i lavori più semplici cioè ormai stringere un bullone fissare una vite o fare o assemblare componenti è una cosa che può fare tranquillamente un robot programmare invece il robot programmare tutta la parte digitale dell'azienda è quello nuovo lavoro che prima non esisteva prima dell'inserimento di robot giusto per fare un esempio tecnologie fantascientifiche perché ormai parliamo tranquillamente di intelligenza artificiale parliamo di computer cognitivi quindi computer che sono in grado di prendere decisioni perché attraverso una telecamera riescono a capire l'ambiente che li circonda questo è il livello tecnologico con cui le nostre aziende si trovano a confrontarsi per cui è drammatica l'assenza quasi totale vorrei dire di adesione a percorsi STEM soprattutto per le ragazze nell'ambito informatico trovare una ragazza che frequenta percorsi così avanzati è molto difficile in realtà rappresentano delle opportunità incredibili anche per lo stesso formamentis delle ragazze a rispetto del genere maschile in certi tipi di attività e anche la regione Friuli Venezia Giulia per esempio per le ragazze che frequentano i percorsi di S spesso e volentieri offre delle borse dei voucher che ripagano completamente le quote di iscrizione attenzione quote di iscrizione per questi percorsi che sono 300 euro all'anno 500 euro all'anno quindi sono percorsi che la regione gli enti pubblici tutto tutto l'indotto sta finanziando quasi completamente ma che trova pochissimi pochissimi iscritti per cui il dramma che stanno vivendo le nostre aziende sto parlando proprio di dramma vero e proprio è l'assenza totale di personale altamente qualificato e questo è proprio in un momento in cui i percorsi stem dovrebbero essere tipici di qualsiasi percorso di formazione in realtà sono limitati e sono delimitati in pochi percorsi e questi pochi percorsi sono assolutamente poco frequentati per cui questo è veramente un grido d'allarme che lanciano un po' tutti i percorsi che operano con tecnologie così avanzate certo la complessità è elevata perché quando i nostri ragazzi insegniamo l'utilizzo di linguaggi per l'intelligenza artificiale chiaro eleviamo l'asticella un po' verso l'alto però le opportunità lavorative che poi si trovano tra le mani sono veramente enormi noi abbiamo ragazzi che sono usciti dai nostri percorsi che adesso lavorano in giro per l'Europa e in brevissimo tempo sono arrivati a ricoprire ruoli veramente applicati perché sono in questo momento tra i pochi detentori di alcune conoscenze specifiche e per cui come sempre le regole della domanda e dell'offerta in questo momento diciamo avvantaggia assolutamente i pochi studenti che sono presenti sul mercato che veramente vengono ricercati e si vengono strappati nel vero senso della parola da un'azienda all'altra questa è la realtà da questo punto di vista volevo fare una domanda ad entrambi c'è un diciamo c'è lo spazio per la chiamiamola riqualificazione di persone non più giovani o giovanissime già presenti in azienda per elevare questa sticella all'interno dell'azienda almeno su persone diciamo di un certo tipo oppure diciamo queste nuove competenze richiedono proprio un background di base che generalmente si acquisisce in età molto giovane continuo io la risposta poi Marco ti cedo la parola perché effettivamente questo è un tema molto delicato nel senso che è un problema che riguarderà nei prossimi anni tantissime persone anche per lo stesso motivo a cui abbiamo già accennato prima l'elevata digitalizzazione dell'azienda automazione dell'azienda certo ridurrà ridurrà i lavori più semplici quelle più di pura manovalanza ma anche nel settore produttivo ci dovrà essere un'evoluzione banalmente chi 30 anni fa usava un tornio per entrare in un settore un tornio aveva tre leve comandava tre assi fine la capacità era solo quella di muovere lentamente la manovella nel modo giusto oggigiorno quelle manovelle sono completamente sparite le macchine sono completamente automatizzate il lavoro è diventato meno pesante più sicuro ma contemporaneamente bisogna crescere anche negli diciamo negli strati produttivi più bassi una conoscenza quindi il futuro dell'industria 4.0 è sicuramente legato a stretto giro con la formazione chiaro non possiamo pretendere che un panettiere diventi un esperto in robotica e quindi con le giuste limitazioni ovviamente di questi percorsi però la formazione continua sarà un tema predominante per i prossimi anni quindi formare le stesse persone che sono dentro l'azienda per riqualificare insegnare a chi usava il tornio vent'anni fa usare una macchina controllo numerico che gli permette di ampliare molto la propria mente la propria conoscenza e la propria visione su quello che fa perché adesso le persone in azienda sono coinvolti in processi molto più complicati complessi e questo deve essere da stimolo per la crescita professionale e quindi la formazione si può fare deve essere deve passare assolutamente per una formazione continua e una formazione fatta a livelli concreti coerenti Marco non so se vuoi aggiungere qualcosa più dell'aspetto azienda Andrea io ho fatto di seduto professionale e quindi ho lavorato sui torni e sulle frese ed era un piede di manovelline era bellissimo adesso ci hanno portato qua una frese a cinque assi non c'era una manovella neanche non capisci neanche da dove entra il pezzo perché è tutto quanto un box pieno di lucine pieno di cose fa delle cose spettacolari però in vent'anni è veramente dopo di più è veramente cambiato cambiato il mondo non dobbiamo secondo me però ecco questo è un passaggio importante è veramente dove dobbiamo lavorare tutti quanti su cercare di trasmettere questo principio a mio avviso non dobbiamo perdere il sapere del fare perché c'è sempre questa pensiero dovuto probabilmente anche ad aspetti culturali al vissuto personale che il stare dietro nella scrivania o l'essere così avere certi tipi di di attività sia bellissimo sia pieno di gioie sia pagante sia il lavoro perfetto mentre altri magari il capocantiere edile siano lavori sporchi faticosi a basso prestigio sociale eccetera cosa sbagliatissima è molto pericolosa perché rischiamo di non avere più professionalità in grado di svolgere quei lavori perciò il panettiere mamma mia va benissimo l'antropologo va benissimo anche quello il filosofo va benissimo anche quello il saldatore il qualsiasi tipo di ruoli di attività sapendo però sempre che c'è la possibilità di evolversi di arrivare a livelli molto alti perché fare il capocantiere di una control tower di un aeroporto che stanno costruendo una mosca di un miliardo e mezzo non è la stessa cosa di fare il capocantiere di una villetta a sesso a reghena ma in mezzo c'è ci sono mille sfumature di grigio così come fare l'antropologia perché uno ha quella passione se riesce a realizzare diventare antropologo bravissimo fortunato determinato capace ma ad esempio questo l'antropologo piuttosto che il filosofo di solito vengono riconvertiti se con passione se con determinazione in modo eccellente a diventare programmatori di algoritmi di intelligenza artificiale perché l'approccio trasversale l'approccio culturale si adatta molto bene a ricercare sistemi non e logiche e approcci non tipici dell'ingegnere che molte volte è più quadrato e molto più razionale ma legati alla gestione di sistemi complessi e quindi alla mente umana e quindi alla filosofia e quindi all'antropologia e quindi l'evoluzione di sistemi complessi perciò non poniamo secondo me i limiti io sono una bambina piccola e mi auguro che cercherò di sostenerla in tutto quanto quello che vorrà studiare perché tutto va bene pur sapendo che però ci sarà sempre la possibilità di creare delle nuove competenze di svilupparle perché c'è la possibilità c'è una possibilità infinita di acquistare e di acquisire nuove competenze che vanno tutte a costruire un background e degli skills trasversali che sono il vero valore aggiunto perfetto e comunque tornando al discorso delle persone già in azienda con una certa età c'è la diciamo si vuole intraprendere un qualche percorso di riqualificazione che riesca a portarli in qualche modo verso nuove attività anche magari immaginando qualcosa di meno complesso dello sviluppare da zero un sistema di intelligenza artificiale ma certo prego prego ma assolutamente sì non è vero che queste nuove tecnologie sono esclusivamente alla portata dei giovani o dei nativi digitali tutto sta nel come vengono utilizzate le tecnologie che non devono essere tecnologie sostitutive della capacità dell'uomo ma devono essere tecnologie ad aiuto ad aumentare la capacità dell'uomo allora se questo viene trasferito comunicato fatto capire e disegnato in questo modo qualsiasi persona è in grado di utilizzare la tecnologia se la tecnologia invece viene vista come sostitutivo e pensata fino a se stessa senza essere invece disegnata per portare del valore all'uomo allora le due cose non funzionano non funzionano certo ancora una stiamo più o meno arrivando a fine della della sessione volevo farvi una domanda nuovamente a entrambi c'è qualche competenza secondo voi che nei prossimi diciamo due anni per non spingersi troppo in là con le previsioni le aziende potranno richiedere ai giovani oltre a quelle che già richiedono al momento qualcosa di particolarmente visionario particolare che si comincia a intravedere all'orizzonte e che potrà essere richiesto ai vostri giovani che vengono a seguire i vostri percorsi due cose secondo me una diciamo visionaria perché facciamo riferimento magari a uno scenario di 10-15 anni ma che riguarda tutti nei miei nei miei seminari esco sempre con un titolo perché domani saremo tutti informatici in realtà non saremo tutti informatici ma sicuramente tutti useremo l'informatica per cui una capacità sono un po' di parte però una capacità che secondo me sarà richiesta un po' a tutti è quella di capire il codice questo indipendentemente da quale sarà il contesto stiamo andando verso una complessità tale che come ha detto Marco prima non ci saranno più né macchine né sistemi con pulsanti rotelle e i display diventeranno sempre più complessi per cui arriveremo a un livello di complessità dove bisognerà parlare una lingua con le macchine e spesso questa lingua è il codice che poi sia codice come sarà strutturato non si sa però sicuramente la mente di tutti dovrebbe essere anzi la richiesta sarà quella ma stiamo parlando proprio di un futuro visionario di parlare dei linguaggi delle macchine una per noi invece esigenza più diciamo prossima è quella banalmente della passione e del problem soffi quella di affrontare positivamente e in maniera collaborativa e in maniera costruttiva qualsiasi problema si presenterà in azienda perché quella della risoluzione collettiva dei problemi sarà comunque un'esigenza più aumentano le sfide più aumentano le velocità più la collaborazione è necessaria per cui ai ragazzi viene chiesto prima di tutto di saper collaborare che sembra una cosa scontata ma non lo è quando parliamo di soft skill parliamo fondamentalmente di competenze trasversali che ci permettono di arrivare a diventare uno strumento di business perché le aziende devono fare business non è peccato parlare di business e tutti i componenti dell'azienda devono essere strumenti di business per cui l'obiettivo è quello di saper mettere in atto tutte le competenze necessarie per la risoluzione dei problemi in team fondamentalmente credo che questa sia una delle cose principali da chiedere effettivamente a un giovane in assoluto quando compare in azienda per la prima volta quindi un'attitudine e anche uno sforzo verso la risoluzione dei problemi ovviamente dando il proprio contributo in base alle proprie esperienze alle proprie capacità di base e al tipo di formazione che ha ottenuto vuole aggiungere qualcosa Olivotto su questo? Problem solving solve skills e visione ampia perciò competenze trasversali diverse a me piace molto il profilo di Umberto perché ingegnere aerospaziale lavorato nella ricerca EBA quindi business strategia percorso internazionale che farà dopo noi capite come si va a costruire una competenza davvero molto trasversale molto strutturata che abbraccia diversi stiamo parlando di eccellenze però a un livello più alto a un livello più basso però queste sono le competenze appunto che con vari gradi di profondità però bisogna andare a cercare di costruire un ultimo commento vi chiederei ultimamente si comincia a parlare invece che di STEM di STEAM quindi anche con gli aspetti diciamo culturali creativi artistici come vedete questa tra virgolette contaminazione tra le scienze dure e la parte più culturale più umanistica sempre a livello dei vostri percorsi formativi anche esperienziali Andrea vuoi rispondere tu parto io vai vai se vuoi parto dicendo che è assolutamente necessario primo perché va a colpire una caratteristica ben precisa di noi italiani in cui eccelliamo è provocatorio ma non tanto i nostri ragazzi sono d'accordo scrivere del codice quindi programmare perché le nostre figure sono principalmente anche se non tutte sviluppatori software programmare è come scrivere un libro è come creare un oggetto d'arte perché è il trasferimento della personalità all'interno di codice veramente un conto è la risoluzione del problema un conto è come arrivo alla risoluzione del problema scrivendo un codice ci posso arrivare in tantissimi modi diversi il modo in cui ci arrivo esprime proprio la creatività che per alcuni è estremamente sterile quando si parla di codice per altri è estremamente complesso e poi perché le aziende stesse ci insegnano che non è solo tecnica quella che serve anzi la creatività e la creatività nasce dall'arte nasce dalla cultura non nasce per caso solo in pochi casi e quindi è assolutamente prioritaria altrimenti come diceva Marco prima cerchiamo di rischiamo di arrivare a figure estremamente sterile mentre anche un panettiere imprime passione in quello che fa e cultura e ricerca ricerca dei materiali delle materie prime dell'origine per esempio di alcuni grani antichi perché nell'antichità si utilizzavano quei grani e quindi come vedete anche nei lavori più semplici anzi adesso chi realizza non voglio dire che il panettiere è un lavoro semplice tutt'altro ma anzi nei lavori meno tecnologici anche qui ci sarebbe tutto da dire c'è la possibilità di andare a ricercare le origini di certi certi lavori soprattutto nell'ambito ovviamente dell'alimentare ma anche dei lavori più semplici bisogna andare a ricercare le origini perché altrimenti si perde il saper fare la creatività la cultura italiana del saper costruire del saper creare noi abbiamo avuto meravigliosi inventori ma non si diventa inventori semplicemente conoscendo la matematica certo aggiungo abbiamo sforato di un po' e aggiungo solamente una chiosa che al ragionamento condivido pienamente di Andrea l'A è quello che ci permette di distanziare di molto la macchina che sicuramente sarà sempre più più evoluta perciò dobbiamo lavorare moltissimo su quella su quella declinata su tutte le lettere precedenti successive di questo di questo stem di quello che sa fuori dello stem però è fondamentale perché ciò che ancora per molto le macchine non saranno in grado di fare allo stesso livello dell'uomo certo certo bene vi ringrazio se c'è ancora qualche velocissima domanda dai partecipanti vediamo se ancora pochi secondi per metterla nella chat altrimenti direi che possiamo chiudere qui la la sessione so se l'assessore Cucci vuole dire qualche parola in chiusura salutare ringraziare tutti in particolare i relatori il dottor Zanni e l'ingegnero Livotto naturalmente è stato un incontro interessantissimo con delle riflessioni e soprattutto delle visioni che io credo siano importantissime proprio per le giovani generazioni quindi e che ovviamente non possiamo che condividere quindi grazie ancora e buona serata a tutti grazie grazie